Cambiamo argomento, informazione e approfondimento di alto livello, ma anche glamour dissacrante, temi di attualità, cinema e qualità, esperimentazione. Questo è il risultato di uno studio sulla nostra emittente, La Sette, realizzato dagli studenti dell'Università Cattolica di Milano, che hanno partecipato ai Master in Analisi e Progettazione del prodotto televisivo. Lo studio si inserisce nel progetto La Sette, va all'Università, sviluppato in collaborazione con Almed Alta Scuola in Media, comunicazione e spettacolo dell'Ateneo. Tra le trasmissioni che sono state oggetto di studio e di insegnamento, figurano l'infedele Victor Vittoria e Barbareschi Shock. Alla presentazione dei risultati elaborati dagli studenti dei Master, ha presenziato Lillo Tombolini, direttore della Sette, oltre ad Andrea Bellavita, direttore del Master, in Analisi e Progettazione del prodotto televisivo.